Era osteggiato fin dallo scorso autunno da comitati, raduni nazionali, raccolte firme e residenti in rivolta. Ora, arrivati alle porte di giugno, traballa in maniera concreta la realizzazione del biolaboratorio sperimentale previsto in zona torraccia nell'accordo fra Comune di Pesaro e l'ampliamento dell'istituto zooprofilattico Togo-Rosati. Sia chiaro, non è in discussione che questo laboratorio venga realizzato, ma da settimane emergono forti i dubbi sulla sua collocazione geografica. Dubbi lievitati fra i vertici dell'istituto zooprofilattico anche alla luce dei recenti eventi alluvionali che hanno di fatto allagato il sito in questione pericolosamente vicino al fiume Foglia. I primi giorni di giugno potrebbero dunque essere quelli decisivi per prendere una decisione che potrebbe orientarsi verso aree più interne. Indiscrezioni hanno ammiccato al territorio urbinate, anche se il sindaco Gambini ha escluso l'esistenza di un discorso in essere in tal senso. Il cambio di location dovrebbe essere anche connesso ad un cambio ai vertici dell'istituto zooprofilattico Umbria-Marche. Dopo una presidenza perugina, la leadership manageriale dovrebbe infatti passare all'ex sindaco di Piobico Giorgio Mocchi, attuale coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia. L'idea che serpeggia è che un laboratorio che tratta animali vada collocato in un'area maggiormente rurale di quella fra via Grande Torino e via Furiassi, non lontana dalle abitazioni ed aree commerciali della Torraccia. Tutto questo anche se il sito in questione è risultato rispondente ad ogni criterio di compatibilità. Se si dovesse concretamente virare su una soluzione extrapesero, il Comune perderebbe il mezzo milione di euro derivato dalla cessione del terreno all'istituto.